Sono in arrivo importanti novità con la legge di stabilità, importanti novità per i comuni che riusciranno così a sbloccare degli interventi. Aleffe come vi state muovendo? Ma è notizia di queste ore, di questi ultimi giorni che apprendiamo molto favorevolmente che la legge di stabilità cassa finalmente questo patto di stabilità. Dal 2016 dovrebbe, uso ancora il condizionale anche se ormai certo non esiste più il patto di stabilità ma la finanza dovrà regolarsi su un altro dato che sarà quello del pareggio di bilancio. Sono tecnicismi nei quali non voglio addentrarmi perché anche per me diventa difficile comprenderli ma fondamentalmente quello che è la notizia che verrà concesso alle amministrazioni in questa ultima parte dell'anno di applicare parte o gran parte dell'avanzo di amministrazione che potrà essere applicata e dovrà essere applicata con delle determini e delle delibere degli uffici comunali entro la fine dell'anno per lavori che il comune aveva già in essere o comunque dei quali aveva il progetto nel cassetto. Ecco, per il Comune di Reffe questo si traduce in una possibilità di impegnare 300.000 euro per opere che daranno ossigeno a quella che è l'economia locale perché farà lavorare chiaramente delle aziende, del territorio ma soprattutto permetterà di fare interventi ormai necessari e non più derogabili ma appunto da realizzare nell'anno poi seguente. Quindi noi andremo a deliberare questa applicazione di avanzo di amministrazione nel Consiglio Comunale che faremo il 20 novembre insieme agli assestamenti di bilancio. Quindi questo è il primo passo che il Consiglio Comunale di Reffe andrà a fare. A seguito di questo verranno effettuate delle determini degli atti degli uffici comunali che andranno a definire quelli che saranno gli interventi da fare poi nel 2016 e quindi poi realizzeremo questi interventi nel corso del prossimo anno, dovranno essere poi pagati entro il 2016, quindi lavori che però finalmente possono essere fatti con le dovute tempistiche che sono necessarie nel momento in cui si fa un lavoro pubblico. Traduco questi 300 mila euro in interventi che sono la prosecuzione della sistemazione dell'impianto di pubblica illuminazione e quindi altri tratti di pubblica illuminazione delle altre vie del Paese, poi ci sono da prevedere la sostituzione delle caldaie della palestra delle scuole medie e della scuola elementare, la sostituzione di alcuni corpi illuminanti all'interno delle scuole elementari che non sono più a norma, abbiamo da fare alcuni interventi sul verde, quindi la potatura di alcuni alberi piuttosto che la sistemazione appunto del parco comunale con, prevedremo alcune nuove strutture all'interno del parco comunale e via dicendo, quindi tutti i lavori che noi finalmente possiamo realizzare con, ripeto, la giusta tempistica che è prevista dall'appalto pubblico, quindi per ora la determinazione di quelli che sono gli interventi da qui a fine anno e poi la possibilità appunto realizzarli nel corso del 2016. Ripeto, una novità importante che dà finalmente un po' di ossigeno a quella che è la microeconomia, quindi se è per il Comune di Leffe sono questi 300.000 euro, ma devo dire per il Comune di Leffe, non so, poi gli altri comuni, ma perché poi ci vogliono dei, comunque ci vuole la disponibilità di cassa, ci vuole che ci sia un avanzo consolidato nel tempo, quindi sicuramente se per il Comune di Leffe sono 300.000 euro, anche per gli altri comuni ci saranno spazi di spesa e quindi credo che questo sia veramente una boccata d'ossigeno per tutto il comparto produttivo nazionale e quindi per risollevare un po' quali che sono le sorti del nostro Paese.